sims taylor che va a scaricare perde il pallone costo cost di carl widel che va a segnare realizzare stefanelli allora prova ad attaccare l'aria non ci riesce riapre per taylor che dà un gran pallone a de laurentis che cerca spazio fino al canestro segna subisce il pallo lorenzo querci sta costruendo poco in attacco sa kaji alza la parabola sbaglia fletcher però inchioda la schiacciata e allora prova widel con la grande inchiodata car widel a dare la sveglia ai propri compagni a 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